ahahahahah buuuu nooo buongiorno ragazzi buongiorno ragazzi buongiorno ragazzi buongiorno ragazzi buongiorno buongiorno cosa ne abbiamo noi oggi Gina la gallina abbiamo qualche gallina lì che urla ah gallina che porta l'uovo eccoci dobbiamo controllare dobbiamo controllare apriamo apriamo aspetta Alex vuoi aprire? apriamo ecco abbiamo montato la nostra gallina eccoci gallina qui si gira la testa la nostra gallina guardate cosa dobbiamo fare ecco noi prendiamo la gallina mettiamo qua e lo chiudiamo così fino a click adesso ne abbiamo guardate ne abbiamo così piccolissime le uova noi dobbiamo mettere in cucchiaia queste qui chiudiamo la nostra gallina si gallina gallina porta uova si Alex allora guardate bambini cosa succede Alex giochiamo giochiamo io 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 sì eccolo uno uno dai Alex due uno sì Alex due uno sì allora io prendo da qui ah ho preso io l'ho sbagliata sì eccoci carichiamo così di nuovo guardate qua carichiamo chiudiamo queste qui sì Alex qui prima si chiudono queste vedi sì e dopo ecco mettiamo le uova dai metti uova metti uova allora bambini guardate attenzione dai Alex eccoci uno lascia stare lascia stare uno ecco io faccio eccoci non si può ah ma non si può io la seconda volta io pierdo facciamo di nuovo dai ah ah ahahah ahahah le fai piaci due uno due uno allora adesso faccio io faccio io eccoci pum uno uno dai dai c'è l'hova dai eccoci io ho vinto no ancora non hai vinto guarda ancora ne abbiamo le uova adesso faccio io eccolo ahahah dai te oh brindi ahahah due due sono rimasti pochi Alex oh eccoci qua mio dai ahahah eccoli bambini ultima partita da alex inizia dai uno allora io faccio due ecco uno uno Alex ho ho due uno io ahahah ha vinto Alex io peso no vodo crack da Ho visto il Panda 3 di nuovo questo? Si, hai visto il Panda 3 di nuovo, in russo, hai guardato. Aspetta, Alex, aspetta, dai, iniziamo. Pum, prendi, ecco, io faccio, pum, ho preso io, dai, dammi l'ova, dai, ancora, dai, fai, dai. Pum, ecco, adesso, tocca a me, tocca a me, guardate adesso, faccio io, così. Eccoci, Alex, dai, ha, 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 wow, sono rimasti pochi, quanti sono rimasti, Alex, tre? O due? Tre, tre uova rimasti, guardate, bambini, pochi di questa qui, sfortunato, lo faccio io. Ha, ha, Alex, Alex. Noooo. ooh, è mio sfortunato, eh mio sfortunato, nooo. NO vä ministre, greetings, ahaha. Guarda la galina, oh, oh, pa, ha, 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 ha. Finita la galina, hahahahahahahaha. Ciao, ciao, ciao. questo è stato giocattolo come si chiama Gino la Galina è stato divertissimo, sei Alex? e che cosa stanno presentato, da? Magic Toys Magic Toys ragazzi, noi vi saluto, ci vediamo in prossimi episodi Ciao ragazzi Ciao ciao